La bufala del giorno che si sta diffondendo sui siti americani e di conseguenza in tutto il mondo è che Vince McMahon sarebbe contrario a The Rock contro Roman Reigns a Vrestelmania 37. Perché? Perché non sa se per allora sarà concesso al pubblico di tornare nelle arene e di conseguenza sarebbe disposto ad attendere sino la Vrestelmania dell'anno successivo. Ovviamente sempre che The Rock si liberasse dagli impegni cinematografici e volesse combattere. Cioè sta roba qua ci dice che se The Rock dovesse dire vengo 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 mi direbbe no stai a casa non venire rimandiamo. Ragazzi ma cosa state leggendo? A cosa credete? Questa è completa fuffa. Innanzitutto visto che Vince parla con poche selezionate persone e i suoi pensieri non arrivano sul web così facilmente e poi io sono abbastanza certo che come qualunque ottimo imprenditore se The Rock desse il suo sì beh Vince salterebbe dalla sedia e farebbe carte false per averlo in qualunque evento ovvio Vrestelmania è il più importante e prestigioso ma lo farebbe arrivare subito appena possibile per inserirlo nella card. The Rock è pubblicità, è immagine, è media che parlano e tutto quanto li ruota attorno. Stiamo parlando di uno degli uomini più popolari al mondo. Chiaro che il pubblico potrebbe fare la differenza nelle decisioni di quest'ultimo di The Rock così come sono coinvolti altri fattori ma ce lo stiamo dicendo da mesi nelle varie dirette sul canale YouTube principale, su Twitch. Insomma ne stiamo parlando da tantissimo tempo quindi per favore non credete a queste fesserie, non credete che Vince McMahon potrebbe scartare un match di tale magnitudo perché non c'è il pubblico. Ma dai, ma dai, sono puri clickbait. Grazie a tutti.